Protesta dei negozianti a Pescara con il suono degli antifurti, degli allarmi, un grido di allarme, perché si continua a non lavorare, siamo in piena pandemia, ma a questo punto davvero voi vi aspettate qualcosa dal governo, perché andare avanti così è davvero difficile e complicato. Questa protesta è un accendere allarme alle 10 di mattina, tutti i negozianti, chi vuole partecipare naturalmente, per farci sentire, per far capire che ci siamo, perché visto che manifestare in piazza è diventato problematico, sinceramente non me la sentivo neanche di mettermi davanti per questa situazione. Ho detto, suoniamo gli allarmi tutti quanti, qualcuno ci sentirà, diciamo una protesta singolare, non fa male a nessuno, nel senso sono tre minuti di allarme accesi in tutta Pescara. Naturalmente chiedo a chi aderisce a questa manifestazione di avvisare sia le vigilantes che la questura se hanno collegato l'allarme da loro, perché se no non è gestibile la cosa anche da parte della questura. Mi hanno chiamato e mi hanno detto, mi raccomando, facci avvisare prima, che avvisassero tutti quanti, sia la vigilantes che la questura. Sono quasi 13 mesi che siamo in piena pandemia, alcuni esercizi commerciali, abbigliamento, calzature, gioiellerie in particolare, ma anche la ristorazione stanno soffrendo in maniera particolare per queste chiusure. Aggiungerei anche le sale scommesse, ce ne sono tante di categorie, purtroppo siamo chiusi e non sappiamo neanche noi perché. C'è stata un'ordinanza della regione la quale ha fatto riaprire gli estetisti e i parrucchieri. Noi come negozio di abbigliamento, parlo a nome di tutti quanti, se apriamo per una persona, dateci delle regole, nel senso possiamo fare entrare due persone per 50 metri qua, ne facciamo entrare due, se entra la terza ci chiudete per un mese, ma almeno dateci la possibilità di riaprire. Anche perché siamo stati chiusi il 19 dicembre, siamo stati chiusi il 24 dicembre, siamo stati chiusi prima della Befana e il giorno prima dei saldi. Siamo stati troppo tempo chiusi, noi siamo Pescara e Chieti, siamo le città che sono state più chiuse in tutta Italia, abbiamo lavorato su 12 mesi, 7 mesi, sono 5 mesi di perdite. Noi chiediamo solamente di poter lavorare, perché le risorse economiche stanno finendo, stanno finendo per tutti.